Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno, sono Anna Sapino e sono il direttore scientifico dell'Istituto di ricerca e cura sul cancro di Candiolo. L'istituto è riconosciuto dal Ministero della Salute come IRCCS proprio per il suo carattere scientifico. Infatti noi offriamo assistenza ai malati che hanno una patologia oncologica ma nel contempo è dedicata a Candiolo un'intera torre per la ricerca sul cancro. In questi anni Candiolo ha iniziato una politica di espansione dedicata al malato. Infatti c'è una progettualità di costruzione di nuovi edifici che possano garantire nuovi servizi anche ai parenti dei malati che potranno avere l'opportunità di stare vicino ai loro parenti e anche un hospice per i malati che devono affrontare dei momenti più difficili e hanno bisogno di assistenza che non sempre a livello domiciliare può essere data. Inoltre verrà costruito un nuovo reparto dedicato a quella che è la simulazione della chirurgia robotica. Infatti a Candiolo è stato sviluppato in questi anni moltissimo la parte di ricerca chirurgica e con una collaborazione con un centro americano intendiamo poter offrire anche ai giovani chirurghi che si approcciano a questo tipo nuovo di tecnologia la possibilità di addestrarsi per dare ai pazienti la sicurezza assoluta quando dovranno affrontare l'intervento. Ci sarà la costruzione di una nuova area di valutazione della ricerca, quindi un'espansione dell'area di ricerca un'area dedicata al poliambulatorio e anche importante la costruzione di una zona dedicata alla biobanca con questo termine si intende una sede dove vengono raccolti i campioni dei pazienti che offrono parte del materiale biologico per la ricerca e anche la protonterapia. La ricerca a Candiolo come vi ho detto si sviluppa su vari argomenti, in particolare noi siamo dedicati a trovare delle nuove molecole che possono in qualche modo sia favorire la diagnosi dei tumori in modo da essere più precoci e più precisi possibili e nel contempo offrire una nuova possibilità terapeutica sulla base dei risultati di queste molecole che noi possiamo in qualche modo identificare. Quindi fare la cosiddetta terapia personalizzata. Tutto questo che vi ho detto è possibile grazie alla Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro che da sempre appoggia la ricerca a Candiolo e anche quella che è l'attività clinica per le attività clinica rivolta alla ricerca e in questi anni la Fondazione ha avuto il sostegno di tutti i piemontesi. Ancora oggi noi viviamo e andiamo avanti grazie all'aiuto di tutti quanti. Per cui spero che con questa descrizione dell'innovazione si possa essere l'interesse ancora a capire che Candiolo è per la popolazione piemontese e per tutti quelli che avranno necessità di noi per curare la loro malattia. Grazie a tutti. 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 Buongiorno, sono Bruno Mellano, sono garante dei detenuti della regione Piemonte. Sono qui su invito dell'Associazione Internazionale Nessuno Tocchi Caino, associazione che da sempre si occupa di pena di morte, di lotta contro la pena di morte nel mondo e da alcuni anni in modo deciso ed efficace di una lotta nuova contro la pena fino alla morte sull'ergastolo, sull'ergastolo ostativo, sulle ostatività degli ergastoli e delle pene nel nostro paese. Si tratta di una campagna culturale, prima ancora che politica, che è volta a cercare di attivare le alte magistrature del nostro paese, ma anche le corti europee e internazionali dei diritti dell'uomo, sulla questione, per esempio, dell'ergastolo nel nostro paese. Recentemente l'Italia è stata condannata per l'ergastolo ostativo, il fine pena mai nel nostro paese e una recentissima sentenza della Corte Costituzionale italiana ha messo in dubbio anche quelle pene che non danno speranza di ringresso nella società nel recupero e nel reinserimento del detenuto. Stiamo parlando di detenuti, ma è più corretto, e io lo faccio sempre, parlare di comunità penitenziaria, un concetto più ampio e più importante, più interessante. Noi abbiamo in questo momento, nelle 190 carceri del nostro paese, circa 61.000 detenuti, ma a quei 61.000 detenuti, ospiti forzati delle patrie e galerie in base ad una sentenza o in attesa di una sentenza, abbiamo una comunità di lavoratori, di operatori, di agenti di polizia penitenziaria, di direttori, di educatori, di formatori, di volontariato o di personale medico e sanitario, che fanno parte di una più ampia e complicata comunità, appunto. Allora, parlare del carcere, anche per chi come me qui rappresenta un'istituzione, ma intende aprire un dibattito con la comunità del territorio, vuol dire parlare di detenuti e di detenenti, di chi per mestiere si occupa di eseguire un servizio pubblico che è quella dell'esecuzione penale. E quindi occorre anche ricordare che l'esecuzione nel nostro paese è un'esecuzione penale che è sia nel carcere, sia all'esterno del carcere. A fronte dei 61.000 detenuti in carcere, noi abbiamo circa, in questo momento, oltre 104.000 persone che sono in esecuzione penale esterna. Affidamento ai servizi, messa alla prova, arresti domiciliari, esecuzione penale che è comunque un'esecuzione penale molto forte rispetto alla libertà personale dell'individuo. Parlare del carcere vuol dire parlare di un servizio molto delicato per la società moderna, vuol dire parlare di un servizio che è molto costoso per le casse pubbliche del nostro paese e che è stato messo in discussione dalla sentenza appunto del Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché negli anni passati e purtroppo ancora adesso eroghiamo una pena che è stata considerata inumana e degradante, cioè non efficace rispetto al risultato del recupero e del reinserimento e inutilmente, diciamo, dura rispetto al detenuto che è condannato nella sua libertà ma non nelle sue condizioni di vita quotidiana. E allora essere qui a nome di un'associazione internazionale che lotta contro la pena di morte e contro la pena fino alla morte è per dare il segno di una speranza possibile. Anche nel nostro paese si ragiona sull'efficacia della pena, si ragiona di cosa può essere l'esecuzione penale nel nostro paese con i progetti, con i percorsi, con il contatto con la società, il tessuto sociale dei territori, dei comuni, della regione proprio per permettere percorsi nuovi, innovativi, efficaci. Essere speranza contro l'avere speranza. Se uno guarda le condizioni attuali delle carce ha poca speranza, se guarda più in generale alla comunità penitenziaria fatta di tante figure, di tanti operatori, oltre che dei detenuti, sa trovare elementi di speranza per il recupero, per il reinserimento, per la rieducazione, come dice l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. Grazie. Pace e bene a tutti. Sono Don Carlo Chiomento, parroco di Candiolo, cappellano all'Istituto della ricerca e cura del cancro. Per le persone che vengono da lontano abbiamo realizzato la casa di accoglienza alla Madonnina di Candiolo Onlus. Le richieste di stanze sono numerosissime e le attuali stanze non coprono queste richieste. Allora abbiamo progettato, d'accordo con l'Arcivescovo di Torino, l'innalzamento, l'ampliamento della casa di accoglienza. I lavori stanno iniziando proprio in questa settimana e prevedono tre tipi di intervento. Primo tipo di intervento, dobbiamo scoperchiare il tetto, alziamo due muri sui lati e poi riposizioniamo il tetto e all'interno verranno 19 stanze con i servizi, gli armadi, la doccia, eccetera, con due letti ogni stanza. Sullo stesso piano, ed è il secondo punto che noi dovremmo fare, il secondo tipo di lavori, è un salone polifunzionale dove la gente si possa trovare a discutere, a chiacchierare, a guardare la televisione. Metteremo anche tutto questo sistema di servizi per proiezioni di film e quant'altro. e questo serve per i momenti di svago, perché bisogna anche parlare di altro, non solo della malattia e dei malati. È un luogo di incontro perché l'attuale che abbiamo non è più sufficiente. Con questi due primi interventi, noi portiamo la capienza della casa di accoglienza da 54 posti letto a 92. Poi, siccome non bastano mai, ne abbiamo altri sei in casa parrocchiale, ne abbiamo altri quattro in un'altra sede della parrocchia, per cui arriveremo a coprire parecchio i bisogni delle persone. Poi queste persone mica possono vivere d'aria, non possono neanche vivere solo di chiacchierate, e allora dobbiamo costruire un nuovo refettorio che si trova al di sopra di quello attuale. Dovremmo ristrutturare completamente la parte esistente che comprende attualmente un alloggio delle suore e un terrazzo. Noi faremo in questa maniera, abbatteremo parecchi muri, rifaremo l'alloggio delle suore in una collocazione molto diversa dall'attuale e così possiamo ricavare un nuovo refettorio dove ci saranno le persone per mangiare. Ovviamente bisogna pensare anche alle cucine. Abbiamo già adesso delle cucine non a gas, le piastre elettriche. Faremo in modo che le nuove piastre elettriche, ma anche quelle vecchie le sostituiamo, siano a induzione, perché adesso se uno mette la mano sopra la piastra elettrica si brucia, mentre invece con il nuovo sistema che hanno trovato riusciamo a gestire meglio le cose. Ecco, questo è il tema dei lavori che stiamo incominciando a fare. Ovviamente accanto a questo discorso di ampliamento della casa di accoglienza dobbiamo fare anche un ampliamento delle persone, perché noi sappiamo, abbiamo già l'esperienza di 12 anni di accoglienza, che le persone che vengono per farsi curare e i loro parenti hanno bisogno di conforto, di sostegno, di presenze. Allora cerchiamo ancora altri 130 volontari. Dobbiamo arrivare, per gestirla bene la casa, dobbiamo arrivare a 300 volontari, perché alcuni si interessano di portare i malati dai per l'ospedale, altri dovranno, cerchiamo persone per le pulizie, per la reception di notte e di giorno, per i giardinieri, per i lavori di manutenzione. Ovviamente io vengo sempre a questa trasmissione con un tappo in mano, perché noi siamo conosciutissimi nel Piemonte perché raccogliamo i tappi, per fare un pochettino di ecologia, si dice così, e questo ci aiuta anche a portare avanti il nostro discorso di informazione sulle attività della casa di accoglienza. Venite a fare il volontariato, è molto bello, rende tanto spiritualmente. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Sardo, sono consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e sono presidente territoriale della sede di Asti. L'ANMIL, che è l'associazione appunto che tutela tutti gli invalidi del lavoro, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, ha fatto realizzare una campagna multisoggetto che consiste in tre spot della durata di 30 secondi ciascuno, che si intitola Non raccontiamoci favole. E l'idea mira a comunicare con ironia e delicatezza l'importanza della salute e la sicurezza sul lavoro, richiamando alla memoria il mondo delle favole. La campagna è andata in onda sulle reti RAI e intende far riflettere sulla mancata percezione del rischio, infortunio da parte dei lavoratori. I tre spot richiamano in chiave lavorativa tre fiabi importanti, come Pinocchio, la bella addormentata nel bosco, Peter Pan, attraverso il personaggio di Capitano Uncino, e condividono lo slogan Non raccontiamoci favole, sul lavoro non c'è sempre il lieto fine. La campagna è stata presentata in occasione della 69esima giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro, che si è tenuta il 13 ottobre scorso. Gli ultimi dati INAIL relativi ai primi nove mesi del 2019 ci dicono che in Piemonte sono stati denunciati 34.659 infortuni, mentre ben 67 sono state le denunce di incidenti mortali. Tragedie che hanno comportato dolore, drammi familiari ingiusti ed evitabili, se solo la percezione della prevenzione venisse messa al primo posto in ogni ambito lavorativo. Da sempre l'ANIL segue con particolare attenzione il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e cerca di stimolare l'opinione pubblica verso una maggiore attenzione nei confronti di questo tema, purtroppo sempre attualissimo. L'Associazione ritiene che la scuola abbia un'importanza fondamentale nella formazione dell'individuo inteso come portatore nella società di questi valori, che vanno al di là di ogni diversità. La cultura della prevenzione deve appartenere ai lavoratori già prima del loro ingresso attivo nel mondo del lavoro. Per questa ragione l'ANIL vuole contribuire alla formazione nel mondo della scuola di una coscienza del lavoro che comprenda la consapevolezza della necessità di prevenire i rischi adesso connessi. Già dal 1997 l'Associazione ha promosso iniziative rivolte alle scuole italiane di tutti i gradi. I progetti ANIL più importanti sono Primi in sicurezza, il concorso che è ormai giunto alla diciottesima edizione, che è rivolto alle scuole dell'infanzia, secondarie di primo e secondo grado, e il progetto Icaro, concepito per le scuole elementari, a cui la sede di Asti ha dato molta importanza. Siamo recati in tre scuole della provincia e abbiamo portato la nostra esperienza di invalidi del lavoro, raccontando ciò che ci è successo e cercando di sensibilizzare i bambini, i ragazzi, su questo importante argomento. Abbiamo anche partecipato a progetti con l'INAIL, con le scuole superiori, e abbiamo portato sempre la nostra esperienza, che è la cosa più importante, in alcune scuole professionali dell'Astigiano. Riscontrando sempre molto interesse da parte dei ragazzi. Abbiamo scoperto che è l'unico modo per sensibilizzarli su questo particolare problema, loro che saranno i lavoratori del futuro. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione! Grazie a tutti!